Le correnti fredde settentrionali che hanno interessato la nostra provincia negli ultimi giorni ci abbandonano lasciando spazio a quelle più umidi, infatti da ovest è in arrivo un campo di alta pressione, venerdì la mattina farà piuttosto freddo, con brinate in pianura, nelle ore centrali avremo un aumento termico, sabato cielo sereno su tutto il Vicentino, poche nubi sulle prealpi, temperature in aumento, domenica cielo sereno, poco nuvoloso, nella seconda parte della giornata le nubi saranno più presenti, temperature stazionarie, per quanto riguarda l'inizio della prossima settimana spesso cielo nuvoloso variabile con possibili deboli piogge, le temperature non subiranno variazioni di rilievo.